grande Mark allora la macchina fa praticamente schifo tutta sudicia e la targa è meravigliosa e questa è teacher marina petro praticamente si è bloccato sgonfiaggio ruote per fare il fuoristrada buongiorno viaggiatori siamo Mark e Miki dopo aver viaggiato nei 5 continenti con tutti i mezzi di trasporto da qualche anno ci spostiamo con la belva un fuoristrada camperizzato con tenda sul tetto in questo nuovo viaggio vi porteremo in Slovenia, Croazia, Bosnia Serbia, Bulgaria Turchia, Georgia Russia, Kazakistan Kizikistan, Uzbekistan iscrivetevi al canale per seguire le nostre avventure ciao! ed eccoci arrivate nella Bolts Valley ma perché si chiama valle delle palle? ecco spiegato il motivo ci andiamo subito a capire il motivo perché ci sono queste formazioni rocciose tutte fatte a forma di palla la cui origine è sconosciuta e in sostanza sono tutte si trovano solo in questa vallata cioè è una cosa incredibile guardate quante sono è come se fossero delle palle da bowling fatte con delle maxi rocce e tutte appoggiate qua una accanto all'altra si stanno e qualcuno è un po' un po' rotta sono delle belle palle da bowling e sono tantissime centinaia e centinaia in questa vallata qualcuno secondo me assomiglia anche a una tartaruga che posto strano eh le stranezze di madre natura in questo cartello ci sono un po' di distanze scritte in cirillico non si sa esattamente che nomi sono ma comunque tipo città e comunque la vallata con tutte le palle si estende a perdita d'occhio guardate arriva fino laggiù laggiù sono tantissime qui accanto invece c'è questa specie di di canyon rossiccio adesso vediamo se Mark con l'aiuto del signor drone ci farà vedere meglio la prospettiva dall'alto che ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcune sono più grandi, qualcuno sono più piccole, però la conformazione è tutta uguale. Una valle intera di mega palle da bowling fatte di roccia. Ecco, ora inizio la ricerca dello spottino meraviglioso. Tanto vedete i passaggi, le cose, la signora finché non vede un panorama che gli piace, non ci si fa, non c'è verso. C'è la cammina. C'è la cammina. C'è la cammina. Sì, perché ci vuole lo spottino meraviglioso per stare. Se noi siamo qua, tutto in mezzo a questi sassi rotoloni, lo spottino è meraviglioso. E secondo me lo stiamo per trovare. Siamo sulla buona strada, guarda che bello. E infatti lo spottino meraviglioso è stato trovato con i cammelli sullo sfondo, tutta la valle con i massi rotoloni e noi sistemati qua. Guardate che meraviglia. Ci sono 23 gradi, si sta benissimo. Mark, sei soddisfatto di questo posto? Diciamo di sì. Diciamo di sì o sì? Sì. Sì. Beh, perfetto. Perché dice a me, ma anche lui è esigente. E con l'aggiunta della pasta verrà fuori la bandiera tricolore. Sughetto, capperi. Adesso si aggiungono anche le olive nere. E buon appetito! Guardate questo super insetto. È veramente grande. Questo è il mio dito. Ma si conto? È gigante. Poi cammina sui sasti. È inarrestabile. È bello, bello grosso. Nel frattempo abbiamo il signor Mark che si sta dedicando all'aggiustamento della pentola. perché era quella che era ferita in viaggio. Per cui vediamo se riusciamo a recuperare il manico. Ci riusciremo? Chi lo sa? Ci proviamo? Ci proviamo. Non sarà di estetica, ma... Ma che si importa? L'importante è che... È il funzionamento, no? Insomma, se puoi... Però non abbiamo più il manico richiudibile ora. Ma l'hai fatto richiudibile un'altra volta? No, ma è delicato. Beh, però... Per tenere nel nostro cassetto la cucina servirebbe richiudibile. Tutti i suoi giochi. Guarda, la cassetta dei giochi. Questa è una delle tante, eh. Però ce n'ha un sacco. Tutte le sue scatole segrete sono queste. Nel frattempo vi faccio impicciare anche del fatto che essendoci qui un sacco di cammelle d'intorno, qui per terra ogni tanto si trovano questi cespuglietti che sono peli di cammello. Ha stiocchiato. È un forte segno. La plastica è cotta. Cotta la plastica. Però forse tiene. No, è tanto dritto. Basta che sia funzionale. Allora va bene. Sì, sì. Ma non si richiude più il manico? Si chiude. Come si suol dire finché dura fa avventura. Peccato perché questa pencela è anche proprio molto... buona. È un sacco di tempo che ce l'abbiamo. Va, è andata. Bravo Marco, aggiusta tutto. Buongiorno viaggiatori dalla nostra valle dei massi rotoloni. Qua ne abbiamo un esemplare gigante. Sembra di essere su un altro pianeta. Guardate che meraviglia. Adesso vi faccio vedere anche dalla parte di qua. Eccoli lì. I nostri massi rotoloni. Di diverse dimensioni. Oggi il cielo è un po' azzurro e un po' con le nuvole. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Però bello il contrasto. Molto bello il colore che c'è anche qua nella valle. Ieri sera ci è venuto a salutare tipo il pastore. Deve essere quello dei cammelli. È venuto, ci ha salutato. Ho voluto sapere dove eravamo. E poi ciao ciao. Ha preso e se n'è andato. Allora adesso noi si fa colazione. E poi si riparte. Bellissimo questo punto qua. Girovagando per qua si trovano massi di tutte le misure, le dimensioni e le forme. Tipo questo vabbè è gigante. Poi c'è quello piccolo che Mark dice che assomiglia a un casco. Continuando qua giù avanti c'è un altro che per noi è il mondo. È questa palla qua giù. Questo qua gigante. Questo è il mondo. Ma la cosa più curiosa di tutti, vi faccio vedere un altro masto che abbiamo notato. Guardate questo. In sostanza questo si è spaccato, no? Se vedete all'interno ci sono tutte le conchiglie. Ci sono i fossili dentro. Vedete qua? Ci sono proprio tantissime conchiglie. Se lo guardi in ogni parte è pieno strapiano di conchiglie. E sono tutte infilate dentro la roccia. Perché qua in sostanza c'era il mare mille mila anni fa. Non si sa quanti, ma insomma mille mila anni fa. Quindi è come se fossimo sul fondo del mare e le rocce hanno imprigionato le conchiglie. Buongiorno signor Tromedario. Ma che belli occhioni che hai. Sembra che tu abbia il mascara. Sei veramente carino. C'è anche la collanina e il collo con, penso, il nome suo, il nome del proprietario. E poi vengono tutti, diciamo, dipinti qua su... No, 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 va bene. Vado via, vado via. Ok, ok. Ma non ti facevo niente. Diamine. E vi volevo far vedere che c'ha dipinto qua sulla pelle. Con la vernice il nome. Ci sono dei numeri a volte e delle iniziali. Eh, mamma mia però. Perché c'hai denti grossi più dei miei. Stai lontano, ha capito? Vi vorrei far notare oggi com'è deliziosa la collazione del signor Mark. Io ho il solito cappuccino. Mentre lui si è fatto il tè. E abbiamo comprato, in sostanza, una scatola di fruttini essiccati. Che sono fatti apposta. Sono un mix. Ti fai il tè e poi li metti dentro. Si reidratano e quindi bevi il tè. E al tempo stesso mangi i fruttini essiccati. Che sono un mix. C'è mela, mirtilli, pesca. C'è un po' di roba, insomma. Il profumo è buonissimo. Oggi, visto che ci troviamo in questo posto fantastico. E siamo in pieno relax. Abbiamo deciso di fare, oltre al solito cambio letto. Facciamo proprio uno stracambio. Una strapulizia della camera da letto. Facciamo le grandi pulizie di primavera. Ora diamo una bella passata con un po' di disinfettante. giusto per pulire proprio... Sì, un po' di... Così, proprio per essere scrupolosi al massimo. Perché abbiamo anche la rete anticondensa. Ma l'abbiamo tolta ora per pulire tutto. Oggi sono tipo le pulizie di Pasqua. Vedete, la signora forse sta lavorando per la prima volta. Ma non è vero! Mentre la bestia sta pulendo, no? Sta levando i pellettini del... Come si chiama? Del saccappelo. Sì, le piumette. Sì, le piumette. Questa cosa qua, tutta bella, liscia, come è qui. La Jayce Barood ha fatto una bellissima cosa. Cosa che l'altra tenda eravamo direttamente sulla vetroresina e le ondurature. Avendoci messo la rete anticondensa, non è che dava fastidio alla schiena. Ma per dormire era perfetta e tutto. Ma per pulirla era molto ruvida. Invece, così è bella liscia e in un attimo ci passi e via. Qualora tu dovessi dormire tutto chiuso, che ti fa un po' di condensa, prendi un po' di carta, alzi il materasso e l'asciughi in un attimo. Cosa che invece quell'altra assorbiva la vetroresina. Per cui, Jayce Barood! La rete anticondensa l'abbiamo messa, che è questa. Fa anche un po' da materassino. Però toglie tutta la condensa da sotto. Perché sei staccato e fa circolare l'aria. Però non viene fornita dalla Jayce Barood. Male questa cosa! Andiamo a vedere il lavoro che ha fatto. Devo dire che la bestia a volte ha anche dei meriti. Senti che odore di bucato fresco! Via! Ottimo lavoro, eh! Brava la signora, brava! Allora non parla e basta, via! No, il bucato è come... Sarabbia, se ci dico così, sarabbia! Lei fa solo bucati belli, freschi! Ciao! E adesso si passa alla fase bucato! Bucato super profumato e mi raccomando in natura sempre bio! Alla fine, tra una faccenda e l'altra, come si suol dire fra le varie vere massaie, abbiamo deciso di rimanere qua. Nel frattempo che devo fare io? Devo preparare il pranzo, perché se no non si mangia, non ci avversi! Fischi, lei no, devo fare questo, no, devo fare quest'altro! Va bene! E allora cuciniamo! Ma visto che oggi si rimane nel nostro wild camping dei massi rotoloni, no, che ci è piaciuto tanto, qual è la ricetta? Beh, la ricetta farò con un sughettino, perché abbiamo preso il wuster, col pane e lenzolino, a parte la pasta e tipo un panino, faremo così, eh? Quindi pane e lenzolino con un sughettino, un po' un pulisci frigo, uno spot a frigo, mi piace, mi piace come idea, sì sì sì, nel frattempo qui siamo sempre stori, un battutino d'aglio, pepericcio, Ora, io pensavo a una cosa, pomodori, carote, cipolla, eh? Va bene? Sì, pensavo a una cosa, no, pensate che mi disturbi, no, no, ascolta, pensavo che se il signor pastore, quello che è venuto ieri a salutare, quello dei cammelli, no, sente il profumino, magari arriva Eh, vabbè, gli offriamo del pranzo E quindi nel caso prepariamo anche per lui, ma non si è visto un giro, abbiamo visto i cammelli, ma il signor pastore no, forse È notturno il signor pastore Viene la sera a farci visita E adesso i viustelini con il pane lenzuolino Mmm, buoni Ciao Ma sei una nane rotto là Ma dov'è la tua mamma? Eh? Ma sì, piccolino, ti sei persa? Guarda com'è mignonne Dove sarà la sua mamma? Ma sei qui sulla soletta a mezzo a tutto questo deserto Diamogli qualcosa da mangiare Aspetta che ti si porta da mangiare, eh È così grosso Portagli un pezzo di pomodoro Vediamo un po', guarda un po' se ti piace il coso Il cocomero La signora lucertola Tipo lì dentro, la vedete? Questa è la coda Questa è il dietro, ma Si è rifugiata lì Giustamente ragione Non ti faccio niente Non è piccola Praticamente ho infastidito tutti gli animali che abitano qua E c'era anche un serpente Ma chiaramente sì, figurati, quello straveloce Non ho fatto mica in tempo a riprenderlo E quindi niente serpente Invece la tartaruga è qua È lì, piccolina Allora, sono venuti a trovarci Come al solito dei signori Ci hanno portato del pesce cucinato ancora caldo Eccoli qua Kazakistan Rakmir Sarebbe grazie Thank you so much Mark è appena andato lassù sulla collinetta Dove si sono messi i signori kazakhi A offrirgli il cappuccino E praticamente te gli offri una cosa E loro te ne offrono tre Non vincerai mai contro un kazako Non ce la farai mai Buongiorno viaggiatori Dalla nostra vallata Qua Dei massi A forma di palla Eccoci qua Abbiamo passato due notti Siamo stati benissimo Perché praticamente Nessuno Ieri ci avevamo i nostri Signori kazakhi Che Passavano di qua Quelli che ci hanno offerto il pesce Poi ieri ci hanno Sono rimasti per il picnic Invece la sera Ci hanno detto Ci hanno invitato anche a cena L'abbiamo ringraziati Ma avevamo già Mangiato il pesce Ma Gentilissimi come sempre Comunque adesso vi faccio vedere fuori Freschino Perché la mattina qua è freschino 13 gradi Ora vi faccio vedere Dalla parte di qua Eccoci C'è un bellissimo cielo Con questa nuvola Guardate che bella Il sole sta arrivando Laggiù Ci sono gli uccellini E non ci sono in giro Nemmeno ancora i cammelli E i cavalli Non c'è nessuno Bene Oggi ci prepariamo Facciamo colazione E ci dirigiamo Praticamente Tutto dritto Laggiù laggiù Verso la montagna Di Sherkala Questa è la nuova Destinazione E dopo due notti In questa vallata Spettacolare Delle rocce Fatte a forma Di palla Noi ripartiamo Lasciamo Questo posto Che è Veramente Stranissimo Tanto stranissimo Quanto bello Siamo stati Benissimo E adesso è spuntato Il sole Proprio cielo Super azzurro Adesso chiudiamo la tenda Portiamo via La spazzatura Mi raccomando Cosa che Ve la vogliamo dire 8 milioni di volte Quando andate via Anche la minima cartina Portate via tutto Perché Non deve rimanere Nemmeno un segno Del passaggio Giusto la traccia Dei pneumatici Quindi Carichiamo spazzatura Chiudiamo tenda E si riparte In direzione Di Sherkala Allora Sherkala Detta anche La montagna del leone Noi da Viaggiatori Insomma guardando Un po' Al satellitare Tutto quanto Avremmo fatto Un'altra strada Perché non troviamo Altre tracce Per andare Ieri poi Parlando con I signori Con i pastori Kazaki Ci hanno detto Che praticamente Se noi seguiamo Questa traccia Che è qua Alle nostre spalle Invece di farci Un giro Di 100 km Con solo 30 km In sostanza C'è una traccia diretta Chiaramente Punteremo Insomma La direzione Tanto Visto che ci hanno Confortato E ci hanno detto Che comunque Una pista c'è Cercheremo Di seguire Questa pista E in direzione Della montagna Quindi si riparte Con una nuova avventura Come sempre Sapete che per noi Le strade Ordinarie Non vanno bene Ci vuole sempre Qualcosa di straordinario Ciao Valle dei Sassi Rotoloni Se è stata Spettacolare Se è stato Un wild camping Magnifico Adesso Andiamo Per la famosa Pista Che Leggermente Impendenza Che ci hanno Indicato I nostri amici Kazaki Mark è laggiù Laggiù Io sono Quaggiù Siamo in Leggerissima Pendenza Ciao Mark Buongiorno Siamo giusti Per cercarla La cosa meravigliosa Che quando loro Ti indicano La strada In sostanza Essendo persone di qua Ti dicono La direzione è quella Ma poi qua Su queste piste Si aprono mille Deviazioni Stradine Perché magari Una porta Alla fattoria Oppure semplicemente Perché ci ha passato Il pastore Quindi Serve molto senso Della navigazione Molto Un po' di intuito E anche un po' di Fortuna E noi proseguiamo Per questa strada Stiamo vedendo Che la distanza Si accorgia Quindi Siamo sulla strada Giusta Per il momento In questo momento Stiamo tipo Percorrendo Una strada Dentro quello Che d'inverno Deve essere Un lago In questo momento Stiamo tipo Pattinando Su un fondo Fangoso La macchina Fa Dai Toyota Vai E siamo Tornati Sulla strada Asfaltata Facendo Un mega Taglio Imperiale Dai Prendiamoci Qualche merito Facciamo queste Navigazioni Un po' Siamo bravi Su Diciamocelo Da sogni Dai su Nel nulla Trovare la pista Non è facile Siamo sulla strada Asfaltata Questo taglio Nel nulla Ci ha consentito Di risparmiare Tipo Cento E rotti Kilometri Quindi Wow Direzione Alla fine Quando abbiamo Fintro di faggino Ce l'arriva Tutta la tua Tama E vedi che E' strappino Di fango No Sì Vabbè Quello Che siamo Pieni di fango Ormai I lavaggi Del Kazakistan Sono diventati I nostri Amici Perché Non ci si può Fare niente Abbiamo il fango Da tutte le parti Però Questa è Esplorazione Di quella Bella E gira Che rigira Adesso ci siamo Catapultati In un'altra Strada Sterrata Ma la montagna Del leone L'abbiamo trovata Però ve la facciamo Vedere meglio Quando si arriva Più vicino Perché lo sapete Come funziona Il Kazakistan Tutto sembra vicino Ma non è mai Vicino Mai Ed ecco Scercala La montagna Del leone È alta 307 metri È una particolarità In questa vallata Perché come vedete C'è abbastanza Piatto Dintorno E questa si Erge Maestosa E soprattutto È bella Per i suoi colori Maestosa 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 E Maestosa Grazie a tutti. 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 Io lo faccio bello pieno, vedi? Fino all'orlo. Com'è? Pieno fino all'orlo. Andiamo a pagare. Abbiamo appena mandato un messaggio su WhatsApp al nostro amico kazako Rafshan e prete gli abbiamo letto non ci crederai ma stiamo ritornando un'altra volta. Lui ci ha mandato un'altra cosa, lui ci ha mandato un vocale e ci ha detto come ci dice sempre Mark, Mickey, come dice No problem, no problem, no problem, no problem, venite. E questo ragazzi è il Kazakistan è un Bruno. E questo ragazzi è il Kazakistan che non ci sta mollando, non ci molla più. Il Kazakistan è un, per noi, per noi si è rivelato un mix di persone, di panoramiche che ci sta veramente prendendo qua. è un problema grosso questo no problem no problem però come dice Rafshan andiamo avanti 100 km e siamo stati in Rafshan e si ritorna ma allora questa va ripresa perché è meravigliosa l'educazione di questi cammelli che attraversano sulle strisce pedonali ma come sono bravi ma guarda come sono bravi aspetta li faccio anche una foto aspetta aspetta andiamo nell'officina proprio quella privata personale di Rafshan perché qui è un big boss lui e Timur sono due big boss per cui hanno sia un'officina privata e più lavorano anche qua in Toyota l'officina privata è subito dietro poi ormai noi conosciamo praticamente qui è come casa nostra quindi ormai sappiamo che là c'è quello che fa l'equilibratura lì hanno la loro officina ma ormai abbiamo tutto sotto controllo non ci devono spiegare che impianti prima superficie ricercate buon pomms Grazie a tutti.